Musica Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva di oggi, basket, beach soccer pugilato nella nostra scaletta. Iniziamo da una bella notizia per gli amanti del basket perché verrà riqualificato il campino di San Filippo, un campo da basket all'aperto, aperto a tutti, che è punto di riferimento per tanti ragazzi amanti di questo sport. Il Comune di Lucca ha firmato la convenzione con l'Associazione Amici della Pallacanestro per rinnovare e dotare di una grande opera di street art il campo da basket di San Filippo, un intervento per riqualificare e rendere più belle e attraente una struttura sportiva di quartiere all'aperto. Noi ringraziamo l'Associazione Amici della Pallacanestro Ollus, ringraziamo anche l'Associazione Start perché ha consentito che un bando regionale fosse dirottato su questo campino che verrà un campo all'avanguardia per quanto riguarda la street art, ma soprattutto dà un po' in là a noi, all'amministrazione, e a tutto scritto per iniziare poi un percorso di riqualificazione e valorizzazione degli impianti polivalenti dei campini da basket anche nelle frazioni. L'Associazione Amici della Pallacanestro si farà carico dei lavori di rifacimento della pavimentazione del campo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Poi il Comune farà realizzare un grande intervento colorato di street art dall'Associazione Start Open Your Eyes, un'opera finanziata con fondi assegnati dalla regione toscana e affidata a Teo Parisi in arte moneyless. L'associazione che presiedo, che è l'Associazione Amici della Pallacanestro Lucca, ha pensato di riqualificare questo campino, storicamente detto campino, per gli amanti, in special modo, della Pallacanestro, perché vogliono stare in un contesto sano. E su questo fatto di stare in posti sicuri noi ci teniamo molto, ma soprattutto, e questo ci teniamo e ringraziamo anche il contributo dello street writer, in ambienti belli, belli per quello che riguarda ora poi lo street writing, quindi questa nuova tecnica di abbellire spazi che possono essere frequentati con più piacere. Beach Soccer inizia il campionato Under 20 con la Farmae Via Reggio, che è di diritto tra le favorite dopo aver vinto due scudetti consecutivi nel 2021 e 2022. Ci racconta tutto Roy Lepore. Al via il campionato Under 20 di Beach Soccer, obiettivo per il Via Reggio è il terzo scudetto. Dopo i due vinti nel 2021 e nel 2022, la formazione Under 20 della Farmae Via Reggio Beach Soccer punta a conquistare anche il terzo. Da mercoledì a domenica all'Ignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine si svolgerà la fase a gironi del campionato di categoria con la formazione bianconera intenta a ottenere la qualificazione per la Final Four della competizione che si disputerà il 2 e il 3 agosto al Beach Stadium Matteo Valenti a Via Reggio. Per riuscirci dovrà piazzarsi tra le prime due in un raggruppamento nel quale si registra la defezione del Terracina e che pertanto si riduce da 6 a 5 squadre. La Farmae Via Reggio avrebbe dovuto debuttare proprio nella giornata di esordio con il Terracina ma scenderà invece in campo giovedì alle 16.30 per affrontare il Lamezia. Venerdì alle 11.30 sfiderà il Città degli Eventi, sabato alle 16.15 il Catania mentre domenica alle 16.45 è previsto il match contro la San Benedettese. Il primo e l'ultimo incontro saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Per questa tappa sono stati convocati Moretti, Morbini, Dilidoni, Rombi, Cosci, Fantinato, Tomei, Remedi, Lombardi, Santucci, Belluomini, Santini e Bastilio. La squadra è allenata da Daniele Cinquini, il secondo e Michele Gemignani. Grande soddisfazione per la pugilistica lucchese. Sascha Mencaroni è stato convocato di nuovo in azzurro il talentuoso pugile allenato da Giulio Monzelezan che causa infortuni aveva dovuto rinunciare a partecipare ai campionati italiani junior. Lunedì Mencaroni partirà alla volta della Romania dove la squadra junior della Federazione Pugilistica Italiana sarà impegnata fino al 1 luglio in un campo di allenamento. Intanto a La Strassigna, a Craft Lecala, battuto ai punti il pugile di casa Lorenzo Tumminaro della Paradiso Box La Strassigna nella categoria 71 kg youth. prossimo obiettivo per il portacolori della pugilistica lucchese i campionati italiani Under 22 di fine settembre. E questa era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva. Rimanete con noi però perché tra poco c'è la terza parte del TG Noi. Grazie.